Dicono che sono vivo per miracolo. Non è vero. Sono vivo grazie a un medico. Mi ha salvato la vita. Semplice, no? Se non fosse stato per lui, la mia bimba non avrebbe più la sua mamma. Avevo mal di pancia, credevo di avere fatto indigestione. Il mio medico mi ha guardato in faccia, mi ha visitato, ha detto, è il cuore. E mi ha salvato. Ha capito quello che non era facile capire. E mi ha salvato. Il suo turno era finito da ore, ma mi ha visitato lo stesso e ha capito subito che cosa avevo. Mi ha salvato la vita. È vero, la sanità va migliorata. Il pronto soccorso è pieno di gente. Però io sono ancora vivo. La sanità ha tanti problemi, va migliorata. Ma i medici, con quel poco che c'è, fanno tanto. Ma come si fa ad aggredire un medico? E poi la vita, chi te la salva? Chi aggredisce un medico, ferisce tutti noi. Chiudiamo questa ferita per sempre.